Allora, siamo in metro, siamo in metro e stiamo andando a Bright. Ciao! Salutate! Siamo arrivati in centrale. Io ho 35. Non si vede che siamo arrivati. C'è sempre più? C'è sempre più. Sempre! Siamo arrivati in centrale. Siamo arrivati in centrale. Ciao! Allora! Quella bandiera lì davanti così. Ciao! Allora, abbiamo incontrato un ospite speciale. Valga nei venti di questa giornata. Ha parole tue? Ho scritto io questo. Penso che è una figata, però manca... Se lo mettete sul Facebook non posso dire cosa manca. Cosa manca? Mario! Mario! Sì! Ciao! Sì! 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 i miei cari in braccio, ma per te non guardare la chi le guida di lui guarda chi si vergogna guarda noia noia Pride è finito siamo stanchissime ma felici la dieta la sta mangiando una ciambella perché quella troia non ingrassa mangia più di tutti ma grastinta cosa vuol dire un riassunto? dai vuoi essere riassunto un gay pride? i don't care i don't care i don't care i really don't care siamo in metro stiamo tornando a casino stasera c'è Harry Potter stasera c'è Harry Potter ti senti spaliggiare l'esse lunga esattamente Red Bull poi Patatini e M&S ciao abbiamo di un'altra categoria chiaro? avanti che è riche? però calmatevi sempre no? però è giusto grazie 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 grazie